buongiorno ho fatto la barba perché era lunga ho fatto la barba perché era lunga mi sono tagliato ma perché 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 non ho fatto attenzione e allora mettiamoci il cerottino ho fatto la barba ho messo il cappellino adesso mi mangio anche un bel panino col birrettino oh sì sì ho fatto la barba ho fatto la barba non vedo più niente con sti capelli non vedo più niente non vedo più niente ho fatto la barba ho comprato la schiuma ho comprato le lamette per farmi la barba la barba la barba la barba la barba il cappello non mi entra più come faremo sta qua così guardate il cappello il cappello il cappello non mi entra più non mi entra più il cappello come facciamo ho fatto la barba cosa c'entra il cappello con la barba con cento il cappello io adesso vi saluto e vi saluto e ci vediamo alle prossime video ciao